Mauro Gattinoni, nuovo sindaco di Lecco, alla prima uscita, potremmo dire, per presentare un bando, un progetto che vuole favorire la ripresa delle micro, piccole e medie imprese del territorio. Parliamo un po' di questo bando. Sono 220 mila euro di contributi a fondo perduto per le imprese, ma come funziona? Sì, sono soldi veri che arrivano per i commercianti e per gli artigiani del centro di Lecco. Infatti il bando si chiama appunto bando per il distretto del commercio del centro città. Pertanto 400 mila euro sono già arrivati e sono stati utilizzati per rifare la piazza Mazzini. Avete visto? C'è un parcheggio nuovo, c'è una nuova pavimentazione, la fontana, un colpo d'occhio magnifico sul teatro sociale. Questo appunto per riqualificare il centro, per renderlo più attrattivo. L'altra tranche di risorse, quella di cui parliamo oggi, sono 220 mila euro, 170 li mette la Regione Lombardia, il Comune ne ha aggiunti altri 50 mila e questi invece vanno direttamente agli esercenti, vanno ai commercianti, vanno agli artigiani del centro. Questi soldi come possono essere spesi? Possono essere spesi per venire rimborsate delle spese che appunto i commercianti hanno sostenuto tra il 5 maggio e il 12 novembre 2020, quindi è anche retrattivo. Queste spese riguardano praticamente tutto, perché sono delle spese dei costi che hanno riguardato la riqualificazione degli immobili, quindi chi ha comprato degli arredi nuovi, le pedane all'aperto, gli ombrelloni, piuttosto che adesso visto il clima, anche i climatizzatori quelli esterni, si sono dovute fare degli accorgimenti dal punto di vista dell'arredo, della disposizione dei locali, ecco questi soldi al 50% vengono rimborsati. Ecco, un piccolo chiarimento, appunto viene rimborsato fino a 10 mila euro il 50% delle spese sostenute, si parlava anche delle cosiddette spese correnti, tra le quali c'è anche l'affitto dei locali. Assolutamente, questo è un dato importante perché tutte le spese correnti, quindi l'affitto dei locali ma anche le spese straordinarie di sanificazione e di pulizia possono essere rimborsate al 50% dal bando. Quindi direi che è una misura interessante da non perdere, resta aperta solo un mese, dal 12 ottobre al 12 novembre, quindi invito gli operatori del centro ad utilizzare queste risorse che sono messe a disposizione. Ecco, appunto come e quando si può presentare richiesta per questo bando? Da lunedì a mezzogiorno è sufficiente mandare una PEC che troverete su tutti i siti, anche grazie anche all'EcoFM che ne dà notizia, è sufficiente mandare una PEC, in ordine d'arrivo verranno assegnate queste risorse. Tenete presente che il contributo minimo richiesto è di 500 euro per una spesa pari a 1000 euro, il contributo massimo di 10 mila euro per un totale spese di 20 mila, quindi direi che c'è ampio spazio per tutte le esigenze prioritarie se non altro degli esercenti e anche degli artigiani del centro storico. Sono escluse solo alcune categorie come videolotterie eccetera, che per una serie di motivi è ben ritenuto inopportuno inserire in questi benefici. Benissimo, molto chiaro, grazie mille sindaco. Grazie a voi. Appuntamenti sempre qui sull'EcoFM. Grazie a voi.